Ragazzi, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao, allora siamo qui carichi, state connessi perché mi piace state connessi, perché questa sera ci saranno delle news bomba, bomba, si va avanti ad oltranza, si pubblica, pubblichiamo materiale. Allora, questo qui è un robot, ok? Un robot può essere di una fabbrica, può essere di un posto di lavoro, è vero che, essenzialmente è vero ed è certo che la, come si può dire, la modernità costruirà robot, quindi ci saranno persone programmatori, ok, va bene, quindi perdi mano d'opera, però alla fine l'economia assorbe. Come vedete stanno arrivando decine di migliaia di immigrati giustamente dall'Africa, io sono favorevole all'immigrazione, a differenza di camicia verde che in un paese normale, non lasciamo perdere, non mi esprimo, quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Io sono favorevolissimo all'immigrazione, ok? Quindi questo cosa comporta? Comporta certamente, certamente che i buchi, i copri, cioè o ci sarà un'immigrazione al contrario, cioè saremmo noi ad andare nei paesi in via di sviluppo, cioè l'economia non è semplice e lineare, chiaro?